Sono stati resi noti tutti i dati auditel contenenti gli ascolti TV di lunedì 19 marzo 2018. Ecco quali sono i principali aggiornamenti relativi alla prima serata di ieri. In prime time l'episodio in replica dei il commissario Montalbano, dal titolo Una faccenda delicata, su Rai 1 è stato visto da 6.337.000 telespettatori, con il 26,6% di share, mentre invece Canale 5, che ha trasmesso una nuova puntata del Segreto, ha raggiunto una media di 2.575.000 telespettatori, pari al 10,7% di share. Anche Rai 2 ha fatto il suo, mandando in onda il quarto appuntamento con Bossin Incognito 2018, che ha fatto raccogliere alla rete, ora diretta da Andrea Fabiano, un bacino di 1.688.000 telespettatori ed il 6,6% di share. Scrutati con attenzione i dati auditel sempre positivi di Montalbano, ecco anche quali sono gli ascolti dei programmi TV che ieri sera, lunedì 19 marzo 2018 hanno debuttato in prima e seconda serata. Nel prime time di Rai 3 la nuova edizione di Report ha raggiunto 1.688.000 telespettatori medi ed il 7% di share, mentre su Italia 1 le strambe avventure televisive di Pio e Amedeo protagonisti della terza edizione di Emigratis hanno interessato 2.262.000 telespettatori, esclusa l'anteprima, raccogliendo il 9,8% di share. Per quando riguarda invece la seconda serata, ieri altri programmi TV hanno debuttato per la prima volta sul piccolo schermo. Sul terzo canale Rai Salvo Sottile ha condotto il primo appuntamento di prima dell'alba, visto da 1.055.000 telespettatori pari al 6,5% di share, anteprima esclusa, mentre invece Rete 4 ha ospitato il ritorno di Rita dalla chiesa a Mediaset con la novità ieri-oggi italiani, trasmissione targata Video News e ideata da Maurizio Costanzo, venendo vista da 414.000 telespettatori medi, con il 4,5% share registrato. Descritta la situazione relativa agli ascolti TV della prima serata di lunedì 19 marzo 2018, non resta che analizzare anche i dati Auditel riferiti al preserale e al pomeriggio televisivo. Ieri sera la puntata dalla 500 alla 1 avanti un altro su Canale 5 ha intercettato 4.361.000 telespettatori, portando a casa il 21,8% di share. Non è però riuscita a superare l'eredità, che è stata seguita da 5.399.000 telespettatori, con il 26,4% di share. Dati positivi, infine, vengono registrati anche nella lunga fascia pomeridiana della rete Ammiraglia Mediaset. Uomini e donne, amici, verso il serale e pomeriggio 5 segnano rispettivamente 3.119.000 telespettatori, 22,21% di share, escluso il segmento finale. Una media di 2.455.000 telespettatori, 20,81%, e 2.218.000, 18,02%, 2.437.000, 18,08%. Nella prima e seconda parte, la vita indiretta sul Rai 1 si ferma al 12-15%.